C'era un percorso di ascolto, di confronto con tutti i comuni di questo territorio provinciale, non solo di quello di Fano e a quanto pare invece la regione si sta muovendo in maniera abbastanza unilaterale e francamente noi pensiamo che da questo punto di vista ci siamo anche proprio un vurnus democratico rispetto a quello che è il percorso di confronto non solo con i cittadini ma anche con le istituzioni che sul territorio li rappresentano. Anche perché in questi mesi sono emersi una serie di bisogni, di aspettative e anche alcune proposte tra cui quella avanzata dal sindaco di Fano Massimo Seri e approvata peraltro dal consiglio comunale di Fano che è quella del sito di Chiaruccia. Oltre a questo quello che rileviamo è che ancora una volta si accelera e si fanno anche alcune forzature che spostano in realtà l'attenzione dal vero interrogativo che assilla tutti i cittadini di questo territorio e cioè come far funzionare una sanità pubblica che ormai da un po' di anni inizia a fare acqua in diversi punti e nuovamente reimpostare il confronto sul tema del sito rischia in qualche modo di rimuovere il vero problema, cioè quello di una sanità che ormai fatica a funzionare, una sanità che noi vogliamo pubblica e sulla quale forse sarebbe importante interrogarsi innanzitutto sulle risorse che la Regione in primo luogo è disposta e capace di mettere in campo.